Manteniamo questo conere distante. Allora, io, me la faccio. Chi è presente, chi è presente, mi ascolti. Siete pregati di venire almeno, non dico una volta alla settimana, una volta ogni sei giorni. C'è gente che viene ogni giorno e non va bene. Ora ho letto una notizia che ci sono collegati, ma sì, la positiva. Ora, noi che non abbiamo avanti sempre i burattini di luati, ora dico un passaggio di immediato. Dico, devi usare le precauzioni. Guanti e mascherina, burattini, non ce n'è, ok? A noi non ci tutelano nessuno. Puoi riuscire a prendersi la mascherina, signori. Io non mi posso tenere il cacao per finire questa camorrea. E se noi non ci prendiamo precauzioni, noi principalmente evitiamo di scendere e fare questa camminata anche noi nel supermercato. Noi non arriveremo mai a caguardo. Anzi, mettete a noi a rischio. I figliari di questa cassa di malattia. Senza mattino, dico per dire a mio figlio che io piglio subito su questa casa, ci non c'è. Ok? Dico è chiaro di scendere un po'. Perché sia chiaro, perché io già arrivavo. Massimo tre volte al giorno, una volta ogni tre giorni. Allora, si immagino ogni quindici giorni. Invece ogni giorno, due volte al giorno. Ora, un esempio. Dico un esempio. Ok? Io ho scontrini qua di persone che devono scendere a fare la spesa. E invece ciò. Un po' di sacchetti. Un po' di soresini. Insomma, sei euro. Chi sa spesa mi ha chiamato. Sette euro. Chi sa mi ha chiamato in spesa. Quattro euro e quaranta. Mai stiamo cucchioneando. Siamo scherzando. Avete a fare la spesa. No. Cucchioneare. A venire qua. Per picchiare. Lo paccheranno lì. Per picchiare. Non lo posso fare. Ci metti i legatoni. Mai stiamo parteando. No. O siamo pagati. O dimostri ne collando. Che è un po' inutile. Ok? Non si tutela. Chi ti è vinto. E dopo colpa virus si può essere vinto. Un anno di escire. Ok? Un bel applauso. Chi ci vuole. Non va bene ragazzi. Non va bene. Non va bene. Cerchiamo di non scherzare di cose serie. Qua ci sono ragazzi. Che rischiano. Tutti i buffonati che fanno una pochia mornizze. Cavendolo vato io e non. Non va bene. Oh! Bravo, bravo. Buttata una miseria! Bravo, bravo. Bravo!